Oggi saluto il boss dei record è Gianluca Capra, se volete essere salutati scrivete un commento. Ehi, vabbè. Ehi, vabbè. Ehi, eh! Io, io quarto! Io terzo quarto! Stai, va! Ah, ecco qua, ecco qua. Ok. Ok. Ehm, no! Eccolo! Ehm, no! Ehm, no! Uuuuh! De chi? De te! Vai, 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 vai! Tira! Ma devo spascarsi! Ah! Che piede! Scrivete in un commento la partita che volete vedere! E noi la sorteggeremo! E noi la sorteggeremo! Ma se ci esce... Se esce... Se esce bene... Non esce... Oh la la! Guarda! Che gira volta spaziale! Fallo! Ma quale ero è che la volta spaziale! Non mettiamo lo spaziale! Guarda! Guarda! No! Però sono veloce! Si scuola! Si scuola! Oddio! Si è il cavale di rigore! Ma la la c... Oltre alla scuola! Fermo l'azione! Il trapetto efficace è la difensore che in accendere la nascita! Eccolo la parola! Fuori gioco! Non hai dubbi che l'assistente è fuori gioco di davanti! Lo sapevo che era fuori gioco! Lo sapevo che era fuori gioco! Lo sapevo che era fuori gioco! Arturons! 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 E' una rotezza! E' una rotezza! Ma dove l'ha vista? Ma no! Sbagliato! Mamma mia! La segnale di Filippo! Mamma mia! Mamma mia! Ma è qui! Non ci poteva fare niente! Ma... Qua ha fatto mal... Ma... Qua ha fatto mal... ... Ma... ... ... ... ... No! E' stato fatto bene! Va, vai, vai! Giaco! mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia guarda là un bel bel golo questo no non ce l'avevo fatto tutte tu non hai fatto un titolo no un tiro un gol Lewandowski no no ma dai ma dai lì potevo segnare eh si vabbè eh vabbè ma fu i giochi buon po' 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 rimonta rimonta mamma mia poi rimonta mamma mia poi rimonta mamma mia poi rimonta traverso che ero ma stai prendendo tu non più bella bella no ti ricordi quando io prendevo traversa parola però devo dire la verità è forte ma 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 cosa fa ma io clicco due volte quello lo fa tre volte ma allora vedi che poi si deve incazzare no la giro è rossa la giro è rossa la giro è rossa è incazzata no no piano piano rovesciate quanto è albidro 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 oh 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 spiazzata da fuori l'aria 45 secondi ultimi 3 minuti Basti Del primo tempo Mamma mia Mamma mia Stavo pareggiando Mamma mia Adesso siamo Non è come se stare 3 a 0 Adesso, di nuovo In pratica siamo 3 a 0 Posso recuperare? Mai Inizia il secondo tempo Vedremo se cambierà la storia di una partita Chi qui ha senso unico Deve fare 3 gol Per me non lo so Ottima la apertura Per marzio Ma non lo ha Mamma mia Mamma mia Oh Oh Ah è un bel po' di testa Oh Sbagliare Lo fa il cross Lo fa il cross Sbagliare Mannaccia Tiro questa Grazie 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 Cosa Perché non mi fate Cosa Ma la va No Ma la va what les Caspi Fan buonissime le date di mille ma è mille io pensavo che ero io l'ho punito no ma pensavo che ero io ha fatto un errore ed è stato punito come si deve grazie pensavo che ero io pensavi male ma guardiamo con un regalo vogliamo essere questo è un po' scema mamma mia il buyer ci crede crede al recupero c'è pacchista non 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 le non non ti porto ei Vai 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 che scena c'è dice lui No ma dai non me lo fa coordinare Non me lo frega Non me lo frega Non me lo frega Una bella questa partita, bella squadra sti due squadra Un grande match, veloce Purtroppo ho perso un palo Ah quel palo Alla prossima Purtroppo ho perso